Nella lista dei cibi più velenosi al mondo, stilata da focus.it, troviamo al primo posto i funghi. Quelli considerati commestibili contengono infatti muffe e tossine che possono provocare serie intossicazioni alimentari se non cotti bene. Al secondo posto c'è la noce moscata che contiene la miristicina, una neurotossina che se assunta in quantità elevate può provocare allucinazioni e addirittura convulsioni. Al terzo posto figurano i fagioli. Questi legumi contengono una tossina chiamata fito-em-agglutinina che può provocare vomito, diarrea e addirittura portare all'avvelenamento. Non stupitevi ma al quarto posto figurano le ciliegie, tre cibi più velenosi. All'interno del nocciolo infatti è contenuto l'acido cianidrico, da cui, lo dice la parola stessa, si estrae il cianuro. All'ultimo posto troviamo infine le mandorle che contengono la migdalina, una sostanza che produce, proprio come nel caso delle ciliegie e dei semi di mela, acido cianidrico.